amici del prog o aspiranti amici del prog questo è un video per voi ascoltate bene ciò che ho da dirvi vedete questi quattro raccoglitori che contengono una marea di dischi di album ebbene questi quattro raccoglitori sono il mio tesoro della musica prog in ognuno di questi volumi sono racchiusi vedete con le copertine originali e i dischi originali gli album più belli del prog non ci sono ovviamente tutti perché sono sono centinaia di centinaia di centinaia allora vi faccio una specie di resumé di quelli che sono in possesso alcuni nella mia collezione abbiamo i genesis ok poi abbiamo i merillion questo per esempio già solo questo volume è solo genesis e merillion poi passiamo al secondo volume che contiene i prime dragon gli iq gli arena ok i dischi di cliff nolan che è il tastierista degli arena poi abbiamo il terzo volume dove abbiamo i camel poi abbiamo i jet total poi abbiamo i pink floyd poi abbiamo i night area i twin age i flamborough head che vi farò conoscere presto i college poi abbiamo su volume dove abbiamo yes fish cantante di merillion che sono da solo poi abbiamo di ricochet i team de sahara e rachel invitation anthony anthony phillips genesis on edge i jedis i clepsydra gli alia e via discorrendo poi abbiamo magic pie millenium insomma una marea di altri album del mood della musica prog provenienti dall'inghilterra dall'irlanda dalla scozia dalla svezia come silhouette dalla norvegia come magic pie dai millenium e moonrise come appunto la polonia i misteri gli uis del canada il gazpacho dalla dalla norvegia insomma una marea di dischi di musica prog di grandi gruppi musicali perché ho fatto questo video per un motivo molto semplice io da circa un paio di mesi sto facendo una radio che si chiama radio progressive max ribattezzata rpm cioè ogni giorno ove possibile chiaramente limitatamente con gli impegni di lavoro faccio ascoltare un album intero a chi lo vuole ascoltare ovviamente una volta che l'album è stato è stato ascoltato insieme in live dove si può commentare fare domande chiedere si può chiacchierare del più del meno ma soprattutto si possono avere informazioni se si vuole su questi gruppi su questi album rimane ovviamente nel mio canale la playlist se volete ascoltare rpm cioè radio progressive max oppure se siete i miei amici su facebook oppure andate a cercare si chiama progressive rock mettete chiedete mettete mi piace alla pagina e voi potete tranquillamente ad ascoltarli io questa è un'operazione che continuerò per lungo tempo se voleste voi però possedere proprio avere proprio con voi per voi stessi nel vostro stereo nella vostra collezione di mp3 vorreste avere il vostro lettore nel vostro iphone il vostro lettore musicale nel ipod insomma non so che cosa utilizzate voi per ascoltare la musica che potete trasmettere in cuffia oppure nelle casse del vostro hi fi io da questo da partire da domani primo giugno per tutti coloro che avranno interesse per queste questa musica che ascolteranno o vorranno avere conoscere nuovi gruppi che magari non conoscono io metto a disposizione il mio archivio di mp3 e a richiesta voi mi mandate un'email max vorrei l'album di web dei millennium max vorrei l'album king for a day di magic pie max vorrei venire del 7 wave dei silhouette vorrei home dei silva insomma ho detto di titoli a caso o anche altri perché no voi non dovete far altro che scrivermi una mail a max montagna chiocciola gmail.com oppure mi contattate su messenger e vi spiego come dovete fare per avere l mp3 vi arriva direttamente nella vostra casella mail quindi non dovete muovervi da casa ok chiedete qui me lo chiedete e io ve lo spiego questo è quanto ci tenevo a fare questo video perché vedo che l'amore per il prog sta crescendo io l'ho fatto una scommessa con me stesso ho detto se soltanto una persona si appassiona al prog come faccio io da 40 anni è una grande vittoria per me posso tranquillamente dire che almeno una ventina di persone che posso anche salutare enrico tumiati alessandro canino dovico longhi sergio santa cicilia francesco perotti forse dimentico qualcuno a mister freeze e molti altri si stanno incuriosendo barra appassionando la musica prog quindi per me è un grande un grande successo sassà salvatore che oggi ha fatto tanti complimenti di magic pie adesso me ne dimentico qualcuno quindi se siete interessati la mia mail la conoscete è il nome del mio canale max montagna non c'ha nel ma c'è una chioccio gmail.com io sono a vostra disposizione vi spiegherò esattamente come fare per avere gli album e qual è la modalità ok questo è quanto non dovete andare a fare spedizione di niente non dovete aspettare il costino arriva direttamente nella nostra casella prendete la cartella ve la mettete nel vostro lettore musicale che sia stella ripeto che sia cuffia e potete godervela tranquillamente ovunque voi siate perché ricordatevi che se non avete mai sentito la musica prog voi non sapete che cosa vi siete persi parola di progger ciao a tutti